7 marzo 2018 Milano in Italia si discute molto sulla VAR, ma se la tecnologia fosse presente anche in Champions stasera si sarebbe evitata una clamorosa topica. Minuto 17, Douglas Costa entra in area ed entra in contatto con Vertonghen, che interviene maldestramente in tackle. Rigore clamoroso, che l'arbitro Marciniak non ravvisa. Inspiegabile anche il mancato intervento dell'addizionale di porta tra le proteste dei giocatori di Allegri, Wokit e rigore Ju.